La città di Sant'Unici a Cancelo, perché avere qui in un'unica incontro il Presidente del Consiglio Nazionale, l'amico, il Gennaro Lugier, grazie soprattutto alla famiglia di Lucia, all'intubblica, la Lucia S.A., che da generazione investe, io questo a nome della città vi ringrazio, investono in un territorio che è difficile da amministrare ma è difficile anche da fare imprese, però questa è la testimonianza che se ci si crede in degli obiettivi piccoli, importanti, che sono di lungo periodo in base a una programmazione seria come la famiglia di Lucia, la Lucia S.A. lo dimostra tutti i giorni, si può raggiungere. Questo binomio, questa collaborazione con il Comune, pubblico e privato, per me è motivo d'orgoglio, spero che ci siano altri imprenditori sul territorio di San Felice a Cancelo che possano seguire questo esempio meraviglioso, ma io credo che nei momenti in cui ci si può fare, ci sono degli esempi, saranno sicuramente seguiti. A me fa solo piacere essere qui, oggi, qua, con questa che è sempre una piccola cosa, ma che San Felice a Cancelo ne ha bisogno. A profitto della presenza del nostro Presidente, che ha sicuramente un occhio lungo su questo territorio, che non ci lasci da solo in questo momento, come lo diceva pure il signor De Lucia, che viviamo sia una crisi economica, ma anche un dissesto economico-finanziario a comunale, abbiamo bisogno anche di piccoli indirizzi su cui andare a puntare e a portare dei finanziamenti sul nostro territorio. Io sono solamente felice e vi ringrazio a nome della città di San Felice a Cancelo.